Pari debì, 2.51 per Paola, 150 metri allo stacco della macchina, macchina che gradatamente inizia a prendere velocità, mezzo meccanico di galoppo nel frattempo, il numero 6 di Palomasama, chiusura delle ali, partiti. Al centro dello schieramento è Paola Alter che parte forte, sfila il comando senza opposizione alcuna, si sistema al comando l'allieva di Biagelo Verde nei confronti di Folol SM e di Perlapan a precedere Pari debì, il lancio in 13.9 con Biagelo Verde che riprende in mano la sua allieva non avendo incontrato opposizioni in fase di lancio, comodo la sua andata al comando con il completamento del primo quarto di corte, in 29.5 da parte del leader, tallonato da Folol SM con Dario Battistini in seconda posizione a precedere a sua volta il numero 2 di Perlapan che precede il favorito di Pari debì. 45.2.600 la mossa all'esterno di Poker Team che ha preso la via del largo, 15.7 la frazione precedente con concorrenti che vanno ora all'attacco della penultima piegata, il passaggio a metà corsa da parte del leader in 1.2. si viaggia da 1.17.5, 16.8 di frazione, sempre Folol SM a tallonare Paola Alter a tabellone finito, Paloma Sama nel frattempo il chilometro in 1.17.2, 15.2 di frazione, entra sul vivo della corsa, si entra con la mossa ora di Perlapan che prende la via del largo, spostato dalla corda, va ad aggirare o perlomeno prova a farlo Pelol SM e si pone all'attacco del leader, vale a dire Paola Alter, 1.31.9 i tre quarti passati con lo scattore in terza ruota anche di Pari debì ma Paola Alter affronta in vantaggio la dirittura di arrivo, scappa via Paola, Pelol SM, prova ad andare a prendere l'allieva di Biagio Lo Verde con Paola Alter che controlla la situazione, allunga e stacca, cost to cost per Paola Alter, Biagio Lo Verde nei confronti di Polol SM e di Principessa Sofia che giunge al terzo posto. 2.1.4 il tempo totale da parte del vincitore, 1.15.9 il raguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 29.5, 14.8 per la dirittura di arrivo, cost to cost per Paola Alter, Biagio Lo Verde, doppio per lui finora in serata, 2.45 la quota al tot nazionale, al secondo posto un ottimo Polol SM con Dario Battistini a precedere il numero 9 di Principessa Sofia.